Giovedì sera a Palazzo Mezzabarba è questo l'appuntamento centrale della politica pavese della settimana. Il Consiglio Comunale del Capoluogo è chiamato ad affrontare infatti il delicato processo di fusione tra LGH ed A2A, prima ancora nella serata di mercoledì il passaggio in commissione bilancio. Il tema è piuttosto delicato dopo le indagini a Seregno e l'interesse anche a Pavia da parte della Corte dei Conti, come spiegato nelle scorse settimane dal consigliere comunale del gruppo misto Rodolfo Faldini. Non a caso la maggioranza di centrodestra avrebbe chiesto un parere tecnico prima della votazione in consiglio ad un esperto di diritto. A livello regionale è stato invece il Movimento 5 Stelle a esprimersi in maniera contraria all'operazione. Attraverso i nostri microfoni il consigliere pentastellato Simone Verni ha confermato l'accesso agli atti presentato lo scorso 20 settembre presso 41 comuni della provincia di Pavia che detengono quote in ASM per avere copia di tutti i documenti relativi alla fusione. Fino ad oggi hanno risposto 5 comuni, Landriano, Marciniago, Roncaro, Travacò e Valle Salimbene. Nessuno di questi ha provato alcuna delibera che autorizza ASM e Pavia all'accessione della propria quota di LGH ad A2A. Il tema è chiaro, da più parti si fa notare, come la vendita diretti e regolare, poiché si sarebbe dovuto procedere con una gara pubblica. Il passaggio in consiglio comunale a Pavia fornirà un passaggio cruciale in questa delicata vicenda.